Siamo con Federico Melchiorri, che tipo di partita è stata? È stata una partita difficile e stancante, soprattutto a livello del campo, che con tutta quella acqua che è scesa era abbastanza impraticabile. Siamo stati bravi a modificare la nostra tipologia di gioco e a sfruttare altre qualità che avevamo e a sbloccare subito la partita. A chi dedichi questo gol? Oltre naturalmente alle mie figlie, che nel mio cuore ci sono sempre, penso che dedicarle questa vittoria e questo gol a Leonardo Cenci sia la cosa più giusta. La classifica si sta delineando. Cosa può dire il Perugia a questo punto del campionato? È ancora presto, secondo me, di parlare di classifica e di obiettivi. Noi sappiamo che ogni partita è fondamentale, dobbiamo guadagnare il massimo risultato, però manca ancora più di un girone, quindi noi stiamo andando avanti sulla nostra strada.